Musica Benvenuti ragazzi, ho stato un nuovo video ed oggi faremo poco poco ragazzi buon Natale prima di tutto e c'è nessuno che è muto che è diventato oggi perché l'ho strangolato per tutte le volte in cui ci hanno disturbato comunque buon Natale come dico prima e oggi ci avremo per la cinquantesima volta di un organo di Steve's versione speciale Natale versione speciale Natale quindi pure prima quindi aspettiamo un attimo che si carica ho visto così un attimo quello di casa ed è un canguro quindi sarà bellissimo questo gameplay tra canguro e Natale c'è proprio una reazione pazzesca ok parla sono sei muto no no sa parlare ragazzi si si sa parlare sa parlare ragazzi non so cosa dire miracolo sa parlare è un miracolo ragazzi ah vedi Natale fa davvero dei miracoli oh talmente questo qua che stanno a rubare quindi non credo sia così bello ecco c'è l'unica parte dove non dovevi di abbero la mirata tv muori facci tu oh ma un ehi 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 vaffanculo bitch sta cazzo di papà che sono un mostro sei un mostro un mostro per bellezza l'office key un computer di merda il painting perchè ci serve? non avevi detto prima che era apple quello è il mio macbook pro! 100 anni fa però questo qual è? quello di due anni fa neanche il toaster guarda poi non lo trovo più il toaster questa volta dove stava? questa tessera di cazzo questa tessera di Picasso guarda mi odia proprio già si vede sta la tessera di prende? muori allora muori 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 muo 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 muori gli dava tutto quanto così a me lo devi pagare un sacco di bollette no al contrario così non paga cazzo perchè la luce non c'è stato ma al contrario devi pagare le bollette e poi devi pagare poi le riparazioni ecco devi attaccare Picasso yeeeh yeeeh attaccazzare Picasso sto frigno va come se fosse povero che c'è tutta sta roba eh devi attaccare Picasso lo stesso è un canguro tanto ma in effetti si oddio già è un canguro questo lo sapevo io sto canguro c'ha mi sa che non vi da macchina allora no spero di no c'è il sonno della macchina però alla fine neanche la usa perchè c'è mi sembrava che era entrato c'è il tono che arriva a volte vedi scusate un attimo dove vai è andato sistemato comunque non scappare dove vai a natale brother hey brother there's a place where you can kick your ass hey sister che ti fa diamond ring dentro il cesso dai dentro la bambina dentro la bambina muore così a me non si vede e arriva su earth little che c'è un fichi dentro poi muore buttaci di te che ti fa ah smetti te prego smettila ancora ma non sto alto ma sei un pirla no si no si scusa si vedi le cazze le puoi prendere no 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 perché i cazzini ce l'ho pure i allora sarà una battuta bitch buttate buttate di te ecco ha preso un libro ha fatto il casino prendiamo i soldi però i soldi servono tranne questo profumo di merda infatti lo spacchiamo muore e non si rompe è di plastica è chinese è cinese è cinese quel coso sapevo io è cinese ragazzi ti ho tagliato col fregno ci nascondiamo subito kanguro kanguro bbb oh ti chiudi perché non vai in australia cioè noi siamo in italia perché ci resta pocket watch pazienza pure oh che padre sempre sto candlestick computer tower che cazzo è un computer tower la torre del computer la torre del computer appunto ma che cazzo va bene ma sbaglio ma che ah no mi chiediamo di c'è un cavolo che sbagliava la password e poi c'è ok ora faremo una cosa pazzesca ragazzi facciamo ok siamo stealth stealth eccolo non sono io bitch non sono io ma quello era un cavolo era un canguro quello del primo eh infatti visto cioè prima era un canguro adesso si è trasformato cioè superman ho fatto schifo bitch facciamo un seconda volta e gioca a lui e se ne va ho detto che non gioco io allora aiutami però aiutami bel bitch ti fa fare sempre qualcosa a te dipende è una cosa take this ho preso l'albero di natale cioè non so dove anche mi sono ficcato però da qualche parte sicuramente l'altro ti tengo questo qua così in caso di emergenza di emergenza poi trovo l'audio e poi trovo quello di cazzo che neanche vedo dove cazzo sta cioè io c'è una dv da 50 pollici non lo prendi però prendi uno sgabbello del cazzo vabbè vabbè che ne sai uno sgabbello fatto che non sembra ma è dolore leva sto coso ecco a lui perché mi fa la gatta oh ancora ho un pirla il toster non ci serve mai ora l'unica volta che ci serve non lo troviamo non lo faccio subito veniva canguro dove c'è il canguro e ti prende quello che sarà eh e ti prende non so quello io gli andavo a mangiare la sangue eh non sei l'unico ho una fame io non lo prende niente ma questo non lo prende mai niente di Natale di Natale vado un paio gente ovvio certo tanto tu ne sono usciti mangiare la sangue eh e poi torna a casa andrò magari a doppia di quando hanno mangiare la sangue quindi proprio perfetto no sono tante serve muori 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 che stile è sto fregno che c'è sull'articolo cioè l'arte per lui qui è girate verso l'arte un attimo vai giù per le scale un attimino girate verso l'arte vai giù girate giù vedi qua sulle scale e girate qua la sua arte e i culi sono due chiappe esatto due chiappe pazzesche poi la tower poi non ho capito perché ah ho capito il tower o è lo stand e poi madonna ha fatto un casino cosa che è questa però vedete oddio cosa fa non c'è la password c'è butta come il foglietto foglietto 9024 9024 9024 902 qua qua quacqua qua 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 non ti prende il cazzo ma può essere tutta la roba che costa 50.000 euro non la prende mai dollari li convertiamo allora il vaso il vaso ti prende il vaso miracolo stiamo prendendo il teddy bear yeah teddy bear muori andiamo i big money i big money cos'è zola il money 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 dov'è cazzo che sta il pocket watch aspetta aspetta il levade ci serve questo però ma ti poteva prenderlo serve questo pocket watch ma muori ah l'oraggio da taschino eh ah eh si dovrebbe stare tipo sul tifano giù eh mo scende tocca scende ci manca trova no guarda eh guarda e il pocket watch non c'è mai che sfiga sali sali muori mi stavo bloccando si ho visto tipo impallato ok password 9024 9024 buttaci le idee ok poi trovo qua dentro il pocket watch ho trovato il pocket watch miracolo oddio non ci rompete le palle non ci rompete le palle sono la cinquantesima volta che fanno sto cazzone lì bello pure il painting eh che è il painting io sovrosto tanto quindi che è il painting facciamo così guarda l'ultima volta che le hai fatte fa adesso è una brutta cosa ah hai provato un quadro buttaci le idee buttaci le idee vittoria 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 ma non c'è un modo più facile scusa eh comunque ragazzi questo è tutto buon natale questo è logico buon natale aio e portaci comunque ragazzi questo è tutto ci sono un nuovo video buon ragazzi bua ah resisto deficiente del cazzo che cavolo ne sapevo io non ce l'ho stacca aspetta tu non sai un cazzo bene a tutti ragazzi ma stiamo facendo un nuovo video ho 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 ragazzi diciamo oggi è natale buon natale a tutti buon natale a tutti guarda è un birra yeah sei un deficiente del cazzo no 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 basta a sto punto basta scusa sono troppe volte adesso che mi dico a me non ne ho avuto più dei fasi perché ho fatto dovevo mangiare bene a tutti ragazzi se ancora registra mi dico mi prego Courtney ciao Grazie a tutti